Il programma per la 28esima Fiera dell'Agricoltura è stato definito, Assessore, quale sarà? Abbiamo definito il programma, naturalmente ricordo che quest'anno c'è di nuovo la collaborazione con il Rozi, ringrazio per questo Caterina Provisiero, finalmente abbiamo un'area che è quella del Rozi dedicata al bio, solamente al bio, e soprattutto dedicata alla convegnistica, la convegnistica che noi dobbiamo comunque riportare all'attenzione perché a mio avviso la fiera deve diventare un evento da locale, quantomeno regionale se non nazionale. Abbiamo definito il programma dei convegni e abbiamo definito soprattutto le serate che verranno dedicate nell'area food alla concertistica. Quali concerti? Allora i concerti sono, la prima sera faccio un concerto di Taranta con un gruppo pugliese, poi abbiamo i Fazzi Dice che sono un gruppo terramano giovane molto emergente, molto bravi, e la domenica chiudiamo con Vittorio il Fenomeno. Io vorrei invitare i cittadini a utilizzare il Bustavetta perché Ballone ce lo mette a disposizione, Baltur è stata gentilissima, farà diverse fermate al centro di Teramo, quindi invito tutti i cittadini ad utilizzarlo per venire in fiera. Abbiamo un sito che è www.fieradellagricolturateramo.it, invito i cittadini ad andare soprattutto per il programma della convegnistica, dei concerti e per gli orari del Bustavetta. Grazie. 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 Grazie.